per la conferenza stampa di presentazione della settantunesima edizione del Festival di Ravello organizzato dalla Fondazione Ravello che ho il privilegio e l'onore di presiedere questa mattina avrebbe dovuto essere con noi il Presidente della Regione Onorevole Vincenzo De Luca quale socio fondatore della Fondazione Ravello ma una imprevista videoconferenza per la riunione Stato-Regioni impedisce in questo momento al Presidente De Luca di essere con noi mi ha delegato apporgere a tutti i presenti, ai signori giornalisti gli amici della stampa e della televisione il suo cordiale saluto e ovviamente ai presenti a questo tavolo della Presidenza che passo subito a presentare per poi dare loro la parola ai fini della presentazione del programma iniziando dalla mia sinistra abbiamo il Sindaco di Ravello Dottor Paolo Villemier che rappresenta il Comune di Ravello socio fondatore della Fondazione poi il maestro Alessio Vlad direttore artistico della Fondazione Ravello l'Avvocato Lorenzo Lentini presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Ravello l'assessore alla cultura della provincia di Salerno Dottor Francesco Morra e il direttore generale della Fondazione Ravello Maurizio Pietrantoni per ragioni organizzative dobbiamo contenere in tempi europei caro Lorenzo gli interventi perché la sala deve essere disponibile dopo per una riunione della Giunta quindi come da programma io inizierei con l'intervento del Sindaco Paolo Villemier pregandolo appunto di non sforare i quattro minuti Buongiorno a tutti un saluto a tutti quanti voi alla stampa ai presidenti presenti all'Avvocato Lentini e al Presidentino Falcorio che ringrazio per l'organizzazione di questo momento importante come ringrazio il Presidente della Regione Campania Donorevo De Luca per darci questa possibilità di far partire da questa sede prestigiosa dalla Regione Campania il messaggio che a Ravello si svolge un festival di grande importanza che richiama ogni anno turisti appassionati Ravello anche quest'anno conferma la sua vocazione turistica che grazie alla presenza di intellettuali e artisti è sempre più importante e viene amplificata in tutto il mondo grazie anche al Ravello Festival che rappresenta un importante momento di cultura di intrattenimento musicale ma anche di veicolazione dell'immagine l'immagine di Ravello è fortemente legata alla musica tant'è grazie all'intuizione di chi ha voluto organizzare e tenere i concerti wageneriani e ha dato la possibilità a Ravello di militarsi l'appellativo Città della Musica Città della Musica che con il Ravello Festival è giunta al 71esimo festival il nome tutelare è quello di Richard Wagner la lungimiranza dei cittadini che negli anni hanno voluto coltivare questa tradizione ma la lungimiranza delle istituzioni che negli anni hanno sempre supportato questa manifestazione e naturalmente il presidente De Luca è uno di quelli che con la sua sensibilità ha sempre dato il grande appoggio alla realizzazione di questo festival e per noi questo è molto importante e di questo lo ringraziamo anche perché è una cosa non del tutto naturale quindi è importante sottolinearla dicevamo che Ravello dà il suo nome per le bellezze naturali la storia, l'arte questa di Ravello che è oggi la cittadina del mondo un crocevia del mondo turisti da tutto il mondo vengono a Ravello è grazie a chi negli anni è venuto a Ravello ai privati che hanno gestito le dimore e le ville storiche in una maniera sempre rispettosa della comunità e che in sintonia con la comunità e il territorio che la circondava dimore che nel tempo grazie sempre anche questa all'intuizione delle istituzioni sono passate dal patrimonio privato al patrimonio pubblico quindi con una maggiore possibilità di utilizzarle a favore della cittadinanza ricordiamo Villa Rufolo che oggi è proprietà della regione Campania e del ministero ricordiamo Villa Episcopio che è su cui la fondazione sempre qui con l'ingimeranza ha in corso le ultime opere con un cospicuo finanziamento che le darà il lustro del passato su cui la fondazione è chiamata a gestire che quindi sarà un altro tavolo importante dove la fondazione potrà esprimere tutta la sua capacità ed utilità la principessa di Piemonte che quest'anno proprio ha fatto i 90 anni dall'intitolazione alla principessa appunto che era a Ravello nel 1933 la principessa di Piemonte che è l'unico belvedere pubblico sul mare a Ravello quindi i cittadini che non vogliono accedere alle ville che sono a pagamento possono regarsi alla principessa di Piemonte a godersi del panorama sul mare questo è molto importante approfitto perché per esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi che è venuto a Ravello nel 2017 proprio festeggiava il matrimonio come testimone in una struttura vicina e proprio sulla principessa di Piemonte volle affacciarsi per godere del nostro paesaggio quindi tutto questo cosa mi porta a dire che Ravello è una località bellissima come la costiera amalfitana è una località che si sceglie la costiera amalfitana per la bellezza dei luoghi per la tranquillità rischiamo di perdere tutto questo la costiera amalfitana sta diventando invivibile c'è il fenomeno del sovraturismo sono necessari dei provvedimenti forti la regione Campania è già in prima linea su questo con l'appoggio alla ZTL territoriale alle forme di viabilità alternativa il servizio di trasporto pubblico deve essere sicuramente all'altezza del nostro paese basti pensare che Ravello e Scala ancora oggi dopo un mese e mezzo sono isolate dalla costiera amalfitana perché dopo il tragico incidente di cui tutto conoscete ancora la strada è interrotta non è percorribile dal servizio pubblico questo è un fatto molto importante quindi servizi all'altezza del nostro territorio coniugati ad una proposta culturale alta una proposta che sia attrattiva di un turismo sostenibile consapevole del territorio che si vive e che si frequenta quindi la fondazione Ravello è prima parte prima attore in questa prospettiva nel dover essere propositiva di un'offerta culturale che possa qualificare il turismo e che possa ancora di più permetterci di accogliere tanti turisti che siano consapevoli del territorio che vivono quindi una fondazione che continui nella sua opera come nella programmazione del prossimo Ravello Festival e che sia volano di una crescita turistica dell'intero territorio della costiera amalfitana grazie allora grazie al sinico di Ravello e grazie anche per la sua precisione essendosi contenuto nei tempi previsti darei la parola all'assessore Morra in rappresentanza della provincia di Salerno che oggi è delegato a intervenire dal presidente Alfieri buongiorno a tutti porto per l'appunto il saluto del presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri anche in qualità di delegato alla cultura e alla valorizzazione dei beni culturali della provincia di Salerno la provincia di Salerno fa parte della fondazione da sempre ringrazio il presidente della regione Campani il presidente della fondazione e il presidente del comitato di indirizzo Lorenzo Lentini un saluto anche al sindaco al vice sindaco di Ravello con cui ci sono sempre rapporti di collaborazione con l'amministrazione provinciale nonostante le province sono diventati enti di secondo livello e quindi anche la cultura risente nella riorganizzazione delle province che speriamo ci possa essere un cambiamento anche da un punto di vista istituzionale sicuramente il festival di Ravello è uno dei festival più importanti del patrimonio nazionale e internazionale ci sono un'attenzione sempre forte sia come attrattore turistico ma anche mettendo in risalto quelle che sono le eccellenze della provincia di Salerno in particolare della costiera amalfitana e soprattutto è un programma ricco e ringrazia anche il direttore artistico a tal proposito una serie di attività concertistiche operistiche di balletto ma anche attività scientifiche artistiche che coinvolgono un po' tutto il comune di Ravello e la provincia di Salerno in questa chermesse che si rivede annualmente quindi per me solo un saluto i complimenti all'organizzazione in particolare alla fondazione Ravello per quanto continuano a fare soprattutto alla Regione Campania Presidente De Luca che continua attraverso un'azione incessante di finanziamenti pubblici da investire sulla cultura affinché ci possa essere sempre di più cultura valorizzando il territorio e cercando di favorire il turismo della nostra provincia grazie grazie assessore approfitto prima di dare la parola al maestro Vlad che presenterà il programma per rivolgere un caloroso saluto e ringraziamento alla dottoressa Romano che è la dirigente del settore cultura e che segue sempre da vicino le attività della fondazione Ravello qui in regione e grazie al lavoro del suo ufficio noi lo dico senza nessuna remora possiamo beneficiare di un sostanzioso contributo da parte della regione che ci consente di programmare quella offerta culturale che come ascolterete dal maestro Vlad si colloca a livelli di qualità altissimi lo ripeto non abbiamo timore di essere smentiti a dire che il festival di Ravello è uno degli appuntamenti più importanti di musica a livello internazionale forse in Europa e secondo solo a quello di Salisburgo e tutto ciò con una caratteristica che mentre in questi altri paesi le organizzazioni dispongono di ingenti patrimoni noi riusciamo a fare questo programma di qualità con meno risorse e tra l'altro se queste risorse non fossero assicurate dalla regione Campania e proprio dall'ufficio della dottoressa Romano sicuramente non ci potremmo permettere di mantenere lo standard la parola al maestro valato ecco io vorrei dare buongiorno ai giornalisti soprattutto delle chiavi di lettura e delle informazioni più precise possibile su quello che è il programma intanto come mi associo ai ringraziamenti che hanno fatto gli altri alla regione Campania soprattutto per un fatto perché è una regione che continua a credere nella possibilità che la cultura possa valorizzare nel modo migliore i beni e siamo nel posto dove ci sono probabilmente forse i beni culturali più importanti d'Italia quindi non avere soprattutto un rapporto passivo ma avere un rapporto dialettico con quello che abbiamo e con quello che ci circonda non solo conservativo ma anche dialettico e di valorizzazione vorrei dire che il programma del festival fa sua una linea ben precisa di indirizzo che ho mantenuto in questi anni d'accordo d'accordo i consigli di amministrazione di indirizzo che vuole avere nella programmazione musicale la caratteristica principale del festival ho sempre detto che a Ravello si celebra un connubio unico tra musica e paesaggio la visita di Wagner in Italia è lo spunto la visita di Wagner a Ravello è lo spunto per celebrare quel grand tour che dal dal settecento ha portato nel sud Italia alcune delle più importanti intelligenze della cultura europea per trovare delle origini comuni molto spesso nel nome del mito ricordiamoci come quasi tutta la produzione di Wagner è una produzione che interpreta il mito ora quest'anno come diceva prima il presidente essendo Ravello città della musica Ravello si spande si espande in un modo più strutturale rispetto ai generi musicali ma nel momento in cui si espande una volta di più vuole confermare la sua vocazione wagneriana come quest'anno per la prima volta dopo quel celebrato Parsifal della fine degli anni 90 con Domingo e Gergev verrà eseguita in forma integrale concertistica una delle opere di Wagner Rheingold diretta da Kent Nagano il 20 agosto in una edizione particolarmente interessante che mette insieme due orchestre che è la Dresden Festspiel Orchestra e il concerto Köln che eseguirà il Rheingold su strumenti originali questa è una produzione assolutamente nuova e in esclusiva per l'Italia nella cartella stampa troverete una presentazione di questo progetto che è uno dei progetti secondo me più importanti che si sono fatti quest'anno che si stanno facendo in Europa appena stata fatta un'incisione discografica di questo progetto Wagner è presente nel concerto non solo nel concerto di apertura che è un concerto commissionato all'orchestra della radio di Vienna e al suo direttore Andrei Boreico è commissionato per il festival che è un concerto tutto wagneriano ma ho chiesto ad alcune delle orchestre e orchestre anche molto importanti come i filarmonici di Monaco o l'orchestra della radio di Francoforte di mettere nei programmi dei brani wagneriani non a caso come l'anno scorso ho voluto che uno dei brani quest'anno all'over tour dei master zinger fosse comparisse nel primo programma e nell'ultimo programma così come negli anni scorsi comparisse abbiamo sempre fatto questo che uno dei pezzi veniva preso come un po' in qualche modo un leitmotiv ora ci sono quest'anno orchestre e direttori c'è stato un avvicendamento in qualche modo che per la prima volta compaivano a Ravello la maggior parte sono nuove produzioni o produzioni fatte apposta per il festival vorrei segnalare sempre per quanto riguarda la musica tra virgolette classica le dieci tappe che in tre giorni daranno al pubblico la possibilità di assistere a una pressoché integrale quasi la musica di Chopin per pianoforte poi a tanti dire ma insomma è una pressoché integrale maratona perché sarà una maratona di tre concerti al giorno e nell'ultimo giorno quattro tappe tutte di fila per circa quattro ore di musica sul belvedere di Villa Rufolo in cui otto pianisti italiani di generazione di diverse affronteranno l'opera di Chopin ci saranno da Lucchesini a questo giovane pianista Elia Cecino che ha appena vinto ieri un importantissimo premio pianistico ci sarà la celebrazione della scuola napoletana del 1700 anche qui produzione commissionata tal festival a Antonio Florio e alla cappella neapolitana nonché una come dire sezione a questo punto strutturale dedicata al jazz che avrà temporalmente una come dire posizione al centro del festival in quattro giorni anche qui con una produzione e vorrei segnalare soprattutto il il concerto di Bollani e Rubalcaba che è una produzione del Ravello Festival cioè Bollani che è venuto tante volte è venuto tante volte Bollani è un artista come dire presente in tutte le manifestazioni d'Italia e non solo però questa volta con una sua veste inedita di due pianoforti con uno dei migliori pianisti jazz della Rubalcaba del panorama internazionale così come è una produzione del Salerno Festival il connubio tra la Salerno Jazz Orchestra e quindi una operazione su una delle realtà musicali più importanti del territorio è la New York Voices vorrei anche segnalare il concerto di chiusura del festival il 30 di agosto sempre per questo spaziare tra i generi musicali in cui uno dei più importanti e celebrati tenori tra virgolette classici di oggi Vittorio Grigolo affronterà per la prima volta in una produzione speciale nel senso che verranno anche come dire riorchestrate riarrangiate alcune delle più famose canzoni di Frank Sinatra voce contro voce voce storica e voce nuova direi che tutto quello che avete è nella cartella stampa vorrei sottolineare una volta di più come quasi tutti i concerti che ci saranno a Ravello esclusi solamente un paio sono concerti o di nuova produzione del festival questo significa per quanto riguarda solamente guardate che solo mettere insieme i pianisti e la musica per pianoforte di Chopin è una impresa non da poco soprattutto come vedete tutti i pianisti italiani che quindi investiamo sui pianisti italiani vorrei segnalare l'attenzione ai giovani perché il direttore d'orchestra che dirigerà uno dei simboli dei concerti di Ravello che è il concerto all'alba Riccardo Bisatti è un ragazzo di 24 25 anni giovanissimo grandissimo talento talento estremamente interessante quindi Ravello continua a insistere sui giovani insiste sulle realtà locali nel senso che oltre a Ravello jazz orchestra per due volte ci sarà un appuntamento con l'orchestra Giuseppe Verdi di Salerno insomma mi sembra che il festival abbia vitalità e soprattutto più che mai rafforzi quelle che è una sua tradizione non consuetudine perché tra consuetudine e tradizione c'è differenza è tradizione quando tradizione è un termine che come dire vuole per chi programma essere una grande responsabilità grazie grazie al maestro Vlad per questa sua panoramica ovviamente se ci sono poi da parte dei giornalisti domande per avere qualche specificazione siamo a disposizione sulla parte tecnica approfitto per ringraziare dell'organizzazione di questa conferenza stampa il dottore Paolo Russo e nel dare la parola al al avvocato Lentini che è Lorenzo Lentini presidente del consiglio di indirizzo della fondazione Ravello approfitto nel dargli la parola per ringraziare gli amministratori presenti della fondazione a questo incontro l'architetto Monica Giannattasio che è consigliere di amministrazione il consigliere Stefano Giuliano del consiglio di indirizzo e chiedo scusa se ho fatto torto a qualcuno che non non c'è nessun altro Elio e Berro degli organi presente chiedo conferma al maestro macinante mi dice di no e quindi do con piacere la parola all'avvocato Lorenzo Lentini grazie presidente devo preliminarmente rappresentare come consiglio di indirizzo della fondazione Ravello che il consiglio di indirizzo della fondazione sono formati da Trenti la regione Campania la provincia di Salerno e il comune di Ravello devo rappresentare che abbiamo un compito estremamente arduo perché ora che ve lo dico è stato sempre l'obiettivo che noi abbiamo avuto davanti agli occhi quale semplice noi dovevamo dare un futuro ad un grande passato un futuro ad un grande passato perché nello scrigno della fondazione Ravello dovevamo essere capaci di inserire non solo una cultura diciamo artistica ma sostanzialmente un messaggio culturale che va verso il futuro ecco che come linea di indirizzo quest'anno ringraziando il presidente De Luca per aver voluto fermamente diciamo continuare nella tradizione e nei finanziamenti di questo festival che noi siamo riusciti a creare un ripartendo da Wagner siamo al 70 più 1 70 più 1 anni ripartiamo da Wagner però oltre alla tradizione di Wagner ma non solo verso un valore di contemporaneità e questo valore di contemporaneità lo abbiamo immaginato in altre aree tematiche quale per esempio il jazz quale per esempio Grigolo e l'ha detto prima diciamo il nostro ottimo direttore artistico al quale do veramente un ringraziamento per aver contribuito a mantenere ferma la tradizione di questo grandissimo festival che poi è qualcosa e concludo immediatamente che ci porta ad un connubio di arte ma soprattutto oltre l'arte ad un connubio di quel palco sospeso sul Villa Ruffolo che rappresenta a mio avviso qualcosa è una dei più grandi unicità non italiana ma del mondo perché avere quel palco e soprattutto avere immaginato e qua l'identità che noi come consiglio di indirizzo abbiamo dato al consiglio di amministrazione e che va certamente con le sue decisioni e con il programma va in questa direzione abbiamo l'esigenza oggettivamente di dare a questo palco non soltanto una vitalità estetica perché non ce ne sarebbe bisogno delle mie chiacchiere o delle mie parole ma dare una visibilità artistica e in questo ci proviamo e siamo sicuri con questa capacità artistica del nostro ottimo direttore di riuscire ad essere competitivi sul piano internazionale vi ringrazio e vi venga a questo punto grazie a tutti e da Ravello mi sento in questo momento particolare vedete siamo usciti da un periodo Covid poi siamo entrati in un altro periodo ancora peggiore io mi sento di dire una cosa a tutti che venga da Ravello un messaggio veramente di amicizia di pace e di libertà che poi è sempre stato il valore di Ravello rispetto all'Europa e rispetto a tutte le trasmigrazioni che venivano da Ravello nel corso degli anni proprio per la sua cultura e per la sua identità storica grazie grazie all'avvocato Lentini anche per questo suo riferimento al fatto che benché in anni di difficoltà come quelli che sono stati ricordati abbiamo sempre voluto che continuasse l'iniziativa di Ravello per mantenere fermo un punto che è quello della centralità della musica della cultura come messaggio di pace fra i popoli do brevemente la parola per un saluto anche al direttore generale della fondazione il maestro Maurizio Pietrantoni grazie grazie anche all'avvocato presidente Lentini perché avete voluto avermi al tavolo con voi io ho un ruolo che è meramente esecutivo ma appunto ci terrei in questa sede dire che con il sostegno del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo effettivamente ho il ruolo di creare le migliori almeno nell'impegno situazioni perché il tutto effettivamente vada a buon fine ma voglio cogliere l'opportunità perché questo mi preme credo che sia condiviso da tutti ringraziare in questo momento e far presente lo sforzo collaborativo di tutti i collaboratori della fondazione Ravello perché è veramente grazie al loro impegno dall'amministrazione alla produzione qui c'è il maestro Macinante all'ufficio stampa del dottor Manzi quanti impegnati a tutto campo e con grande dedizione permettono la realizzazione puntuale ed efficiente di questa meravigliosa macchina anche a quanti lavorano per Villa Rufolo perché è la sede istituzionale dei nostri concerti che sta avendo un periodo questo grazie ai flussi turistici veramente importanti che da due anni si stanno determinando in costiera e in particolare a Ravello tenendo conto che lo scorso anno abbiamo avuto oltre 300.000 visitatori a Villa Rufolo e quest'anno già da prima di Pasqua c'è un trend di almeno un 15-20% in aumento quindi un ringraziamento a tutti e credo che con l'impegno di tutti si siano determinate anche per quest'anno le migliori condizioni per avere la migliore realizzazione della settantunesima edizione grazie a tutti grazie grazie al maestro Pietro Antonio io procedo ad un intervento conclusivo fermo restando che poi siamo aperti alle domande della platea rinnovo in apertura di queste conclusioni il ringraziamento alla regione Campania nella persona innanzitutto del presidente De Luca e del capo di gabinetto Almerina Bove che è consigliere di indirizzo nel nostro organo della fondazione senza l'apporto della quale dobbiamo dire avremmo numerose difficoltà a gestire tutti i vari problemi che si scatenano nella vita della fondazione ricordava il maestro Pietro Antonio Pocanzi che nell'ambito dei compiti della fondazione c'è quello della gestione di un bene culturale di rilevanza storica notevole che è quello di Villarufolo ed è un bene che viene conservato a livelli standard altissimi di manutenzione e sicurezza e con tutti gli investimenti che sono richiesti dal caso quindi questo allargamento del discorso fatto da Maurizio Pietro Antonio mi consente anche di dire che la fondazione Ravello quest'anno consolida un programma che è iniziato con i nostri mandati di consiglio di amministrazione e consiglio di indirizzo nel quale c'eravamo prefissati alcuni obiettivi uno di questi obiettivi era di idealmente allargare la stagione del festival oltre il periodo estivo ebbene quest'anno abbiamo aggiunto un tassello a quella sperimentazione che poi è diventata consuetudine della rassegna natalizia che si è tenuta comunque l'anno scorso con dei momenti di rilevanza ripresa anche dai telegiornali nazionali come il concerto dell'orchestra del cinema e la splendida performance di Fiorella Mannoia e Danilo Rea all'auditorium Oscar Niermaier e il concerto di Capodanno dove è intervenuto proprio il grande tenore Vittorio Grigolo in un'ideale staffetta con la giornata conclusiva del festival di quest'anno dedicata a Frank Sinatra e quindi avevamo già ampliato lo spettro temporale al Natale quest'anno abbiamo anche a Pasqua organizzato una splendida esecuzione delle musiche sacre di Vivaldi all'interno di una sede quelli che parlano bene dicono location d'eccezione come il Duomo di Ravello dove l'orchestra e il coro del Teatro Verdi hanno eseguito il Gloria e il Magnificat il lunedì in Albis in una suggestiva atmosfera che riuniva la felicità per la Pasqua di Resurrezione a note musicali di particolare pregio vergate dal maestro Vivaldi e splendidamente eseguiti dai musicisti e cantanti di Salerno e oltre a ciò la fondazione ha anche degli altri obiettivi e quest'anno proprio per le cure del mai troppo ringraziato avvocato Lentini riuscirà a portare un evento di carattere culturale importantissimo a Ravello coinvolgendo il Consiglio di Stato in un convegno che vuole essere la prima pietra di una futura tradizione che si ripeterà anno per anno e dove verranno posti al centro quei temi che sono congeniali a Ravello e cioè la bellezza declinata nel paesaggio naturale e nell'arte in particolare musicale che sono i caratteri distintivi di questa località che ha scritto a lettere di fuoco il suo nome nel firmamento delle perle del Mediterraneo bene questo per dire che la Fondazione Ravello sta acquisendo buona stampa da un certo tempo a questa parte probabilmente le critiche alla Fondazione Ravello vengono soprattutto da persone che rimpiangono di non esserne più parte ma di fatto l'attività culturale alla quale siamo chiamati viene eseguita nel rispetto non solo degli scopi statutari ma nel rispetto di una filiera ordinamentale che è bussola di orientamento della nostra azione che parte dall'articolo 933 della Costituzione e passa per lo statuto regionale che individua l'attività culturale come uno dei campi di azione della regione campagna e noi interpretiamo questo ruolo in uno spirito repubblicano democratico di diffusione della cultura e della conoscenza lo facciamo quest'anno con un programma che coniuga originalità e internazionalità originalità per quello che ha ricordato il maestro Vlad la maggioranza dei concerti che saranno offerti quest'anno sono di produzione specifica della Fondazione Ravelli cioè sono concerti commissionati alle orchestre direttamente da noi e che poi queste orchestre porteranno in giro altrove e secondo l'internazionalità la cultura non ha senso se non è scambio e il nostro scambio avviene con le orchestre più importanti del mondo e dunque in questo mix tra originalità e internazionalità riusciamo ad ottenere un ambizioso obiettivo che è quello di essere produttori di una cultura che sia glocal una cultura che unisca gli elementi della globalizzazione e le radici locali tant'è vero che quest'anno accogliendo un invito spesso formulato in tutte le volte che è venuto ospite come direttore d'orchestra a Ravello dal maestro Riccardo Muti noi dedicheremo uno spettacolo specifico alla grande scuola napoletana del settecento quella scuola che ha reso Napoli capitale europea e dunque mondiale della musica e non è passato in vano l'invito di Muti rivolto al pubblico dell'auditorium Oscar Niermaier tre anni fa in cui volle specificamente ricordare che in tutta Europa le capitali della musica erano Napoli e Vienna e a Vienna soggiornavano i musicisti napoletani poi per vicende personali come Cimarosa caduti nel dimenticatoio per il momento storico non certo per la fama che ha proseguito negli anni ma c'era un Mozart che imperversava ma c'erano anche i napoletani c'era Paesiello c'era Pergolesi c'erano i Scarlatti i Cimarosa i Mercadante e sono tutti autori che verranno ricordati anche dalla produzione della nostra fondazione e quindi l'originalità e l'internazionalità contribuiranno a offrire una cultura che è glocal e a mandare avanti un obiettivo che è quello di diffondere la cultura ovviamente nel nostro specifico che è lo specifico musicale ogni fondazione ha ogni ente diciamo ogni ente morale ogni fondazione ogni associazione ha dei suoi scopi istituzionali il nostro scopo istituzionali prevalente è di operare nella musica non ci è chiesto di intervenire in altri settori in quei settori che invece fanno parte del nostro statuto come la tutela del paesaggio stiamo lavorando con il convegno che faremo col consiglio di stato e in ciò noi riteniamo di assolvere al compito che ci viene dato approfitto per salutare e ringraziare l'avvocato Boe capo di gabinetto che in questo momento sta entrando e devo dire con una punta di orgoglio che tutte le volte invece che ci viene imputato di non mantenere obiettivi di questo genere credo che chi parli non abbia guardato effettivamente i risultati e le opere che abbiamo compiuto ringrazio quindi tutti quanti voi rinnovo i saluti i ringraziamenti al presidente De Luca e credo che però dobbiamo abbreviare la riunione quindi diamo spazio a qualche domanda perché deve avere corso in questa stessa sala la giunta regionale grazie e un saluto di nuovo cordiale a tutti se ci sono domande perché poi dobbiamo lasciare Enrico ciao il problema è semplice il problema è molto semplice il problema è molto semplice il bagno come voi sapete è le dimensioni delle opere di bagno sono purtroppo penso incompatibili con le dimensioni normali di quello che sono i concetti bisogna trovare una formula secondo me bisognerà eseguire le opere di bagno sono tanti modi di eseguire le opere di bagno si possono anche come di spezzare in un weekend si può fare un atto un sabato e un atto la due successivi atti del domenico è un'aspirazione bene è un po' stimolante va bene insomma Wagner è complesso sia per il numero degli orchestrali sia per la durata e la lunghezza delle opere quindi bisogna ci invitano a lasciare se magari qualche sì noi non abbiamo avuto nessun taglio nel bilancio della fondazione per quanto riguarda i contributi pubblici che vengono prevalentemente se non esclusivamente dalla regione campagna e già ho detto che se non fosse per il contributo della regione campagna noi non potremo mettere in piedi nulla di questa offerta culturale un milione e mezzo è un milione e mezzo vabbè questo lo possiamo fare senza dare fastidio alla giunta e quindi ci spostiamo grazie a tutti grazie a tutti